il grano si chiamano questo per il plot ovviamente quello con le tripore posizionate l'idea geniale di scegliere la guida l'idea geniale la xamira slayfano scresa nani be like you'll be ok and everything's all right let me in the big sun one in the new thing but you're loving your body in a little bit of your brain this day is way too lonely i'm missing out i know this day is way too alone and i'm not forgive and love away but i won't e niente insomma e' finita e' finita e' finita e' finita e quindi che vi devo dire ma noi ci vediamo in classe a me ne abbiamo comprato il prosciutto vabbè giustamente le cose che contano il cibo ok dai facciamo un saluto finale ciao